Questo video riguarda i migliori 3 cesoie elettriche per potature. Il vincitore della qualità nel nostro cesoie elettriche per potature va all'iCabv Forbici. L'iCabv Forbici potatura elettriche professionali sono alimentate da un motore brushless, con una durata di 3 a 5 volte quella di un tradizionale motore a spazzole e, la lama è forgiata in acciaio ad alto tenore di carbonio SK5, affilata e antiruggine, combinata con un design ad arco, può tagliare i rami in modo uniforme e pulito senza danneggiare i rami. Questo forbice potatura a batteria professionale utilizza materiali leggeri di alta qualità, con un peso di 1,3 kg e può essere azionato con una mano. Il corpo ha anche una gomma morbida, antiurto e antiscivolo, che può aiutare gli utenti a lavorare facilmente a lungo non sentirà affaticamento e dolore. Cambiando il design della maniglia precedente, la maniglia di questa cesoie potatura elettriche adotta un design ergonomico antiscivolo, che rende la mano comoda e antiscivolo. Le cesoie elettriche per potatura sono azionate da un motore CC senza spazzole, con un ingranaggio di trasmissione altamente efficiente e stabile e sono dotate di due batterie a litio ricaricabili da 21V-2A. Le due batterie possono funzionare ininterrottamente per 6 a 8 ore senza ricarica frequente. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente qui sotto nella descrizione del video. L'alternativa è il Leach Bid Cesoie. Adotta lame SK5 ad alta resistenza e super duro. È estremamente affilato, resistenza alla corrosione e resistenza all'usura. È stato progettato per tagliare o tagliare rami da 0 a 25 mm. Peso corporeo di circa 0,94 kg. Con il manico conforme al design dell'ingegneria umana, antiscivolo, non ti sentirai stanco dopo un uso prolungato. Può moltiplicare l'efficienza di potatura. Dopo l'operazione di potatura, non ci sarà dolore a lungo termine tra le dita e le braccia, ha un ampio margine di risparmio tempo e fatica. Adatto per giardino, frutteti, vigneti, ottimo per rifilare la potatura delle frutte, la raccolta delle fattorie ecc. Con due batterie può durare 3 a 4 ore, per coprire la tua giornata di lavoro. Nota. La durata della batteria naturalmente dipende dalla frequenza e dall'intensità di taglio. Alimentata da un motore brushless più costoso e efficiente, il motore brushless è un motore di basso rumore, e con maggior durata della vita lunga rispetto al motore con spazzole normale. Una forbice a batteria, manuale di istruzioni, due batterie, una sacchetta con piccoli attrezzi per la manutenzione, una caricabatteria, e una valigetta. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente qui sotto nella descrizione del video. Il vincitore della Performance Premium nel cesoie elettriche per potature è il Mushanxi e cesoie. Mushanxi forbici potatura elettriche è azionato da un motore brushless, 800W di alta potenza, due batterie a litio da 2A36BF di grande capacità possono funzionare per 6 a 8 ore. La lama Mushanxi forbice elettrica potatura è forgiata con acciaio ad alto tenore di carbonio SK5, affilato e antiruggine, la lama è piatta e non danneggia la corteccia. Forbici da potatura pesa solo 1,0 kg e può essere azionato con una mano per una facile rifilatura non ferire le mani. Una forbice da potatura equivale all'efficienza di 10 persone. Risolvi i problemi dell'alto taglio dei costi e della bassa efficienza dei lavoratori assunti tradizionali, migliora l'efficienza del lavoro e soddisfa esigenze più diverse. L'interruttore ha un design di protezione di sicurezza per prevenire il contatto accidentale per avviare le forbici da potatura. Premere prima l'interruttore di sicurezza, dopo aver sentito un BIP, premere rapidamente il grilletto due volte, sentire un BIP due volte, quindi accendere la macchina. Cesoi e potatura adatto a vari vigneti, cinture verdi, cespugli, capanne, giardini, parchi, aziende agricole, pascoli, frutteti, serre e essere può essere utilizzato per tagliare alberi da frutto, come uva, ciliegie, alberi di mele, eccetera. Se ti piace il video apprezzeremmo un pollice in su o anche un commento.